La ricchezza interna dell'Italia scende per il secondo trimestre consecutivo, questo significa recessione tecnica. In base ai dati Istat, nel quarto trimestre 2011 si è registrato un calo del PIL dello 0,7%. Si tratta di una cifra che fa dell'Italia per lo stesso periodo il fanalino di coda dell'Eurozona. Per il 2011 la ricchezza è aumentata dello 0,5%, nel 2012 si stima un calo invece dello 0,5%.